Cominciamo a parlare. Viaggiando in un paese straniero si ha sempre bisogno di fare domande, bisogna sapere come e cosa, capire dove, chi e quando. Impariamo quindi le parole necessarie a chiedere. Quando qualcosa non è chiaro, non sentiamo, non capiamo, chiediamo che cosa? E se vogliamo sapere chi? Ora passiamo ad imparare i pronomi necessari per presentarci o parlare di amici. Per primo io. Poi tu o formalmente lei. E che dire di noi? La terza persona è lui, lei. E al plurale loro. E se arrivano tutti? O magari nessuno. Nessuno! Daredemo nai. Daredemo nai. Parliamo un po' del tempo, argomento che poi riprenderemo iniziando con la domanda. Le risposte alla domanda quando possono variare. Se non conosco l'ora esatta, posso usare altri eventi come punto di riferimento temporale. Prima o dopo. Prima della gita o dopo il pasto. Cominciamo da prima di. Ma è. Ma è. Continuiamo con dopo di. A to. A to. C'è chi chiede quando e spera di ricevere la risposta adesso, subito. Adesso. I ma. I ma. E se ci sono quelli che rimandano tutta più tardi? Dopo. A to de. A to de. E se non adesso? Quando? Sarà presto. Si può dire anche... Fra poco. Fra poco. Sugu. Sugu. Oppure. Più tardi. Nochiほど. Nochiほど. Avete certo voglia di passare a frasi più complesse. Non ancora. Fra poco. Mada desu. Mada desu. Chi non ha pazienza dice... Adesso o mai più. Chi non ha fiducia dice... Impossibile. Non mi succederà mai. Chi si lamenta dichiara... Uffa! Succede sempre a me. Sempre. It's mo. It's mo. È il contrario di mai. Kesite. Nai. Posso fare una pausa? Un momento. Torno subito. Un momento. Sucoshi dake. Sucoshi dake. Torniamo a qualche parola utile per domandare... Come mi trovate? Come? Doh. Doh. Doh? Perché d'estate fa così caldo? Perché? Doh ste? Doh ste? Quando domando perché... Mi aspetto una spiegazione. Spesso... Anche la risposta comincerà con... Perché? Na ze nara? Na ze nara? La parola dove è essenziale per i turisti. Dov'è il museo? Dov'è il mercato? Dov'è il ristorante? Dove? Doko desu ka? Doko desu ka? Ecco alcune risposte possibili. Come nel tempo, anche nello spazio è meglio usare punti di riferimento. Dietro la torre. Davanti al museo. Davanti. Mae. Mae. È il contrario di dietro. Ushiro. Ushiro. Cerca, cerca e ce l'hai proprio davanti al naso. Ecco! Koko desu yo. Koko desu yo. Le persone, a differenza del GPS, tendono a spiegare approssimativamente. Ecco, è proprio qui o andate lì, qui e lì. Alla fine ci si ritrova. Qui. Koko. Koko. E' il contrario di lì. Atchi. Atchi. Chi arriva in una grande città cerca sempre un posto di osservazione alto. Ma noi siamo saliti su. C'era foschia e non abbiamo visto niente. Siamo scesi giù. Prima in alto. Su si può anche dire. Uwe. Uwe. Poi in basso. Giù. Shita. Shita. Questo museo è splendido fuori. Dentro invece, niente di che. Dentro. Uchigawa. Uchigawa. Invece? Fuori. Sotogawa. Sotogawa. Cosa c'è sul tavolo? E cosa ci nascondi sotto? Sopra. No ue ni. No ue ni. E sotto. No shita ni. No shita ni. Ecco un'altra parola che ci aiuta a scegliere. Ad esempio, in fatto di acquisti. Ad un certo punto il commesso vorrà sapere cosa ci decidiamo a comprare. Quale? Doji desu ka? Doji desu ka? Lo manderemo in confusione. Questo. No, no. Questo. Quello. Quello lì. Fra poco sapremo i nomi dei colori. E sarà più facile. Ma intanto, questo qui. Kore. Kore. Oppure, quello lì. E al plurale. Anzi, vorrei quei fiori lì. Questi o quelli? Korela. Korela.